Quando iniziamo ad andare in montagna tutti ci dicono la stessa identica cosa vestiti a cipolla Sì, ma cosa vuol dire vestirsi a cipolla? Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo cosa vuol dire vestirsi a cipolla Questa sarà una guida per principianti per capire i vari strati quali sono, la loro funzione più un po' di consigli generali da una persona che in montagna ci va quasi tutti i giorni durante un anno Il primo indumento di cui parliamo sono mutande e calzini Secondo me molto spesso sottovalutati ma fanno la differenza se scelte giuste Iniziamo dalle mutande, qui ne troviamo generalmente due tipi Ho delle mutande praticamente senza cuciture, quindi un pezzo unico di tessuto e queste possono già andare bene ma di solito sono un pochino più contenitive e sostengono meno il cavallo A confronto invece troviamo un altro paio di mutande che hanno le loro cuciture e allo stesso modo hanno un gran bel sostegno, sono anche loro comunque elastiche e la parte fondamentale delle mutande ma anche poi di tutto l'abbigliamento che andremo a vedere è che devono essere in materiale tecnico Io vi sconsiglio di utilizzare le mutande che utilizzate tutti i giorni perché davvero vi faranno sudare tanto e possono rendere abbastanza brutta la vostra esperienza in montagna Perciò vi consiglio un paio di mutande, di quelle che hanno un bel sostegno sul cavallo con tutte le cuciture Secondo me questo è un acquisto che può fare la differenza in montagna e che comunque potreste usare anche nella vita quotidiana nelle giornate estive più calde Passiamo ora alle calze Io non vi consiglio di utilizzare una calza bassa anche se avete delle scarpe basse Questo perché avere un pezzettino di tessuto in più come può essere una calza che magari sale fin sopra la nostra caviglia ci può aiutare nel momento in cui magari andiamo a fare qualche sentiero con qualche radice, qualche sassolino ci protegge da eventuali tagli che potremmo farci nella parte bassa della nostra gamba Poi in generale anche qua naturalmente in tessuto tecnico, mi raccomando E poi fate attenzione che abbia un buon sostegno sia sul tallone per evitare le vesciche idem sulla parte anteriore dove va la punta del nostro piede per evitare vesciche ed evitare sfregamenti Anche le calze possono fare la differenza insieme a un buon scarpone Passiamo ora al parlare del primo strato vero e proprio, ovvero la maglia Il compito della maglia e del primo strato è quello di prendere il sudore che esce dal nostro corpo e portarlo verso l'esterno per evitare di farci sentire sudati, per evitare di accaldarci Per quanto riguarda le magliette, anche qua vale la regola del utilizzate solo materiale tecnico Prendendoci le magliette in cotone, davvero non utilizzatele So che il cotone, a contatto con la pelle, crea davvero una bella sensazione ed è un ottimo materiale Ma non per la montagna, perché con le magliette in cotone suderete tantissimo La maglia non vi si asciugherà quasi mai, quindi andrete in giro sempre con la maglia bagnata E poi i cattivi odori sono proprio dietro l'angolo Perciò le magliette in cotone davvero non utilizzatele mai Qui vengono in nostro soccorso due tipologie di maglie Quella in sintetico e quella in lana merino Quella in sintetico è sicuramente molto più traspirante del cotone E' anche quella che personalmente vi consiglio, perché ha un buon rapporto qualità-prezzo Come dicevo, il sintetico, questo perché davvero si asciuga molto velocemente Nel momento in cui magari ci fermiamo c'è un po' di sole Traspira abbastanza, quindi il sintetico è secondo me la via di mezzo ideale Se poi invece vogliamo il top abbiamo la lana merino La lana merino ci assicura una traspirabilità eccezionale Davvero con la lana merino si suda pochissimo E l'aspetto bello di questo materiale è che ci tiene freschi quando abbiamo caldo E ci tiene caldo quando fa fresco L'unico neo della lana merino è che ha dei prezzi veramente veramente alti Per una buona maglia in lana merino possiamo spendere anche 60-70 euro se non oltre Prima di passare al secondo strato vi introduco anche lo sponsor di questo video Ovvero Alltrix Alltrix è un e-commerce online che ha tantissimo materiale da montagna Vende un sacco di aziende di cui molte anche italiane E per questo video Alltrix ci ha riservato uno sconto del 20% su un sacco di prodotti Potete andare qua sotto in descrizione Troverete il link che vi rimanda direttamente al sito con tutti i prodotti in sconto E inserendo il codice RICCARDO20 che trovate all'interno della descrizione Avrete il 20% di sconto su tutti questi prodotti Passiamo ora a parlare del secondo strato Per intenderci il secondo strato è la così chiamata felpa che andiamo a mettere sopra la maglietta Lo scopo di questo secondo strato è prendere il sudore che porta lontano dal corpo il primo strato E portarlo verso l'esterno Quindi continuare quella traspirazione data dal primo strato Ma allo stesso modo deve tenerci anche al caldo Perché naturalmente non lo indosseremo quando con la maglietta avremo solamente freddo Come fare a decidere quale secondo strato comprare? Innanzitutto dipende tantissimo dalla temperatura a cui andrete e dalla quota Possiamo trovare diciamo tre grossi tipi di secondo strato Gli secondi strati più leggeri Così leggeri che praticamente possiamo quasi vederci attraverso E sono veramente molto molto traspiranti Ma peccano un pochino dal punto di vista del calore Nel senso che non tengono così tanto caldo La via di mezzo invece è un secondo strato che è abbastanza caldo E anche una buona traspirabilità Quindi diciamo un buon compromesso Ed in questo caso è anche quello che vi consiglio Perché davvero può tornare utili in tantissime situazioni Oppure se siete particolarmente freddolosi Meglio magari andare su un micropile Quindi magari un tessuto molto caldo Un pochino meno traspirante Ma che ci consente di proteggerci anche le temperature un pochino più rigide Ma come fare a capire se un secondo strato è più adatto all'estate, all'autunno, all'inverno? Di solito lo scrivono già i produttori sul loro capo Quindi anche se state andando in un negozio a comprare i capi Magari cercate il nome del capo online E il solito il produttore scrive già perché stagione è ideale quel singolo capo Altrimenti potete guardare la grammatura del singolo capo Naturalmente più la grammatura salirà Più il secondo strato sarà caldo Passiamo ora al terzo strato Quello che si chiama anche insulation layer Che di solito sono così chiamati i piumini Il piumino ci serve nel momento in cui noi magari arriviamo in un rifugio Comunque alla nostra vita E dobbiamo coprirci perché magari c'è un po' di vento Inizia a fare un po' freddo Lo scopo del piumino non è quello di generare calore per tenerci al caldo Quanto quello di isolarci dalle temperature esterne E di tenere all'interno del nostro piumino il calore generato dal nostro corpo Anche qua abbiamo diversi piumini Possiamo partire dai piumini estivi Quindi che hanno un'imbottitura minore e che tengono naturalmente un caldo minore A di piumini magari più tre stagioni invernali e che tengono naturalmente un caldo maggiore Cosa gli differenzia però? Di solito è la grandezza in sé del piumino Un piumino estivo possiamo farlo su Raggomitolarlo davvero in una pallina abbastanza piccola Per inserirlo all'interno dello zaino e portarlo in giro senza tanti problemi Più il piumino diventa importante ci permette di stare a temperature più basse Più sarà difficile raggomitolarlo e più spazio occuperà all'interno dello zaino Naturalmente qua dipende a che temperatura dovrete andare voi Se andrete a fare un'escursione estiva potete benissimo optare per un piumino abbastanza leggero Un piumino che magari si comprime molto e non offre questo grandissimo calore Se invece siete persone freddolose o dovete andare in climi particolarmente rigidi Beh allora è meglio optare per un piumino un pochino più grosso ma che ci tiene decisamente più al caldo Come capire se un piumino è ideale per l'estate o l'inverno? Anche qua di solito i produttori sul loro sito lo scrivono Se non dovesse essere scritto andate a guardare anche in questo caso la grammatura Più la grammatura sarà elevata più il piumino ci terrà al caldo Arriviamo a parlare del quarto strato ovvero il guscio Il compito del guscio è quello semplicemente di tenerci lontano dagli agenti esterni E lo utilizziamo solamente quando piove o c'è forte vinto Il mio consiglio è quello di non partire mai con il guscio indossato quando iniziamo a camminare Perché il guscio anche se i vari produttori dicono che le membrane sono comunque traspiranti Via dicendo vi farà sudare tantissimo Quindi nel caso doveste avere freddo magari almeno un secondo strato un pochino più pesante Come vi dicevo il guscio ci serve solamente nel momento in cui piove o c'è vento forte Pertanto è sempre buona cosa averlo nello zaino Di tipi di gusci ne esistono tantissimi I prezzi possono variare in base alle membrane Ci possono essere dei gusci un pochino più economici e dei gusci decisamente costosi Qual è la discriminante di solito? Non tanto la traspirabilità quanto le colonne d'acqua che può sopportare la membrana di ogni singolo guscio Il mio consiglio se andate d'estate potete anche evitare di prendere gusci super costosi Quando un guscio c'ha già 20.000 colonne d'acqua va più che bene Prima di concludere il video voglio darvi qualche consiglio personale che ho imparato in tutti questi anni Dove ha senso spendere i propri soldi? La maglietta secondo me una volta che prendiamo una buona maglietta in sintetico Anche da una ventina di euro va più che bene Poi naturalmente dipende ogni quanto andiamo in montagna Se siete dei grandi frequentatori magari allora è meglio pensare all'Anna Merino Ma se state iniziando da bere una maglietta da 15-20 euro in sintetico può andare assolutamente bene Il capo su cui spendere la maggior parte dei soldi secondo me è secondo strato È secondo strato perché è quello che svolge la funzione principale tra il tenerci al caldo e non sudare Secondo me davvero se avete un budget abbastanza risicato pensate di utilizzarlo per la maggior parte per un secondo strato Perché se prendete un secondo strato fatto bene che ha un ottimo rapporto tra traspirabilità e calore Può far davvero la differenza Cioè avere una maglia super traspirante ma poi abbiamo un secondo strato che traspira pochissimo Siamo appunto a capo Prendere un piumino o magari super caldo ma avere un secondo strato con un calore veramente minimo Beh sarà un casino perché utilizzando il piumino camminando suderemo tantissimo Quindi a mio parere vi consiglio davvero di investire la maggior parte dei soldi sul secondo strato Per quanto riguarda il piumino anche qua di solito i piumini stibili si può comprare tranquillamente anche a 70-80 euro si prende già un buon piumino Poi dipende naturalmente cosa dovete andare a fare ma se siete dei principianti un piumino da questa cifra può andare sicuramente bene Per quanto riguarda il guscio come vi dicevo non c'è bisogno di avere delle colonne d'acqua veramente altissime per avere già un buon prodotto Un guscio come 20.000 mm di colonne d'acqua può andare veramente molto molto bene A patto che non iniziate ad andare a fare magari alpinismo o attività veramente ad alta vuota Detto ciò ragazzi io ne ho speranza di essere stato esauriente e esaustivo Vi ricordo che in descrizione trovate il link di Alltricks con lo codice sconto per avere il 20% di sconto su tantissimi prodotti E ringraziarvi per aver guardato anche questo video vi saluto e noi ci vediamo al prossimo Ciao